Ma è stato visto come un modello alternativo, sebbene esponente di una democrazia illiberale nel migliore dei casi. C'è stato in Italia, ad esempio, Salvini. Salvini aveva più volte parlato bene di Putin, ora ne risponde anche a livello internazionale. Ci aveva parlato bene anche Berlusconi. Ma che discorso è? Ma anche Berlusconi aveva parlato bene di Putin. Sì, non so, l'abbiamo già nella prima parte della trasmissione elencato. Ecco, questo è stato un errore da parte di una classe dirigente politica italiana superficiale che vedeva la bellezza del decisionismo, dell'azione dell'uomo forte, che ora si paga o aveva un senso. Ma la bellezza del decisionismo la vedono in tanti. Mica soltanto è un segno illiberale, ma che discorso è? La bellezza del decisionismo, l'esaltazione permanente del decisionismo, più decisionismo di quello di un Parlamento come il nostro che si limita a convertire decreti, più decisionismo di questo. Ma scusi, vuole scherzare? Dai, non stiamo a discutere. Cioè, Putin è chiaro che non è un liberale, che non è un democratico, come lo potremmo intendere noi, come forse lo intendavamo noi una generazione fa, forse, ecco, più che adesso. Ma, e poi, la Russia. La Russia, il fascino lo sa bene, insomma, mi scoccia anche parlare di steccone che sono acqua calda. La Russia non è che abbia Putin una vocazione imperiale. La Russia è un impero nel DNA, come gli Stati Uniti, come la Cina, sono imperi. È un concetto diverso rispetto a quelli dei stati. E se devi trattare con un impero, devi sapere che tratti con un impero. Non c'è niente da fare, se no fai a meno di andare anche a trattare. Perché se non hai una cultura storica che ti faccia conoscere minimamente che cos'è la Russia, che ci siano i bolschedichi, che ci sia lo zar, prima di tutto la Russia è un impero. Sapete l'Ucraina da chi è stata conquistata? È stata conquistata dall'armata rossa l'ultima volta l'Ucraina. E hanno fatto 6-7 milioni di morti in 1920. È chiaro il concetto? Quindi c'è prima di tutto la Russia. E poi c'è l'Unione Sovietica, lo zar, Caterina, Pietro il Grande. Ma prima di tutto c'è la Russia. E se tu vai a trattare con Putin, devi sapere che tratti con la Russia. E Mosca, sapete come la chiamano? La chiamano la terza Roma. Di Battista.